Musica Benvenutissimi a tutti in questo nuovo gameplay Siamo tornati finalmente su FIFA 15 E sono tornato finalmente a fare questi benedetti video Dopo che sicuramente qualcuno di voi avrà chiamato chi l'ha visto Allora, eravamo rimasti qui con il nostro Hagrinton Che dovevamo giocare la partita di campionato contro il Duggan Red Ma prima ci è arrivata un'offerta di trasferimento per George Bowerman Che ovviamente ci danno 425.000 euro il Gillingham Ma ovviamente noi li mandiamo a cagare Perfetto Anche perché il bomber non si può sostituire in questo momento Detto questo, prossima partita Duggan Red vs Hagrinton Bowerman parla per McCartan McCartan va via, prova il tiro con l'Hug Bowerman Di giochetti, bella palla qui Nesmith Va via Provera per Joyce La finta di Joyce Si libera E questo è un gran gol Il capitano 1-0 Hagrinton Mamma mia, che gol La finta Il movimento proprio di finta del tiro Mamma mia Splendido Splendido, splendido 1-0 Hagrinton No, attenzione Connors La mette interessante in mezzo Attenzione, lo stacco Palla alta Attenzione Eh, brutta Palla sul palo Che succede? Fuor gioco, ottima Meno male Atfield, uno contro uno Ah, ottima McCartan Ancora Joyce Uff Mamma mia, come giochiamo bene, però Fine primo tempo Attenzione, prova Uff Mamma mia Fuor gioco Eh, non c'è Attenzione Eh, ma era fuor gioco lì? No Mamma mia, Buffon Miracolo incredibile Ma lei era fuor gioco, però Arbitro Niente, però Z, vabbè McCartan Mamma mia, che palla Boh, era il controllo splendido Lo da solo Ma è McCartan McCartan, vi è vero un guizzo McCartan Mamma mia Eh, brutto Rosso Attenzione Infatti era bruttissimo Che fallo Eh, se Nesmith controlla un po' brutto Però palla per McCartan Ancora qui McCartan McCartan Si gioia bene Palla per Bowerman Ma mannaggia la miseria Chiudiamola però Se Joyce Ancora lui, Joyce Provo ancora Joyce Mamma mia Capitano Super partita Goi Metti in 3-7 Mezzo Altre La chiude 2-0 E se ne va Festeggio Impazzito Fermatelo Che dove va Impazzito Andate un cazzotto pure Alla lampada Ancora parla per Joyce Joyce Prova ancora Joyce Capitano oggi Al piede caldo Ed è finita Grande vittoria Ragazzi Perfetta Partita perfetta Proprio Perfetta Prossima partita Hugginton Contro Carlisle United McCartan Punto avversario Prova ad andare via Guizzo di McCartan Bellissima parla per Hatfield La controlla anche bene Hatfield la rimette in mezzo Joyce No La domanda di testa Va bene però ragazzi Va bene McCartan Bowerman Giocano allo stretto Ancora Bowerman Ancora per McCartan Ancora per Bowerman Bowerman Un fenomeno Cioè Non c'è niente da dire Questo è un fenomeno Ricordo che stiamo a leggenda E questo è un fenomeno Mamma mia Attenzione Via bene qui Attenzione Carlisle in avanti No 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 Marchiamo 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 Grandissimo Via No Ancora lì No Giochicchiano Eh Eh lo sapevo Lo sapevo L'avevo vista Porca troia Dai Era finito il primo tempo Ma dai Fini il primo tempo Un tiro hanno fatto Un tiro Gol Eh questa è brutta E questa è brutta Robson No Non ha finito uno schema Pala sul palo Incredibile No no Eccolo Uh McCartan Ma dai Mettila dentro Cacchio Finita Eh purtroppo Non è stata una bella partita Da parte nostra Nel secondo tempo Siamo crollati proprio Infatti poche azioni Però Abbiamo un punticino Che non è male Dai Tanto continuo le offerte Per Bowerman No scouting Ma rifiuto O sempre Prossima partita Plymouth Prossima partita Plymouth Contro Hagrington McCartan Vive bene con un guizzo Pala per Bowerman Ancora per McCartan Azione splendida Andiamo sempre noi in vantaggio Mamma mia cazzione Sti due attaccanti Ormai si trovano alla meraviglia Mamma mia Che gol 1-0 Hagrington Attenzione Prova Miracolo Miracolo del portiere Mamma mia Bowerman Numeri Ingoia per la palla McCartan McCartan No La devo mettere in mezzo Imbecille La fida Ingoia C'è sul secondo palo Quello Sponda di McCartan Ricorre qualcosa Niente No 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 Eh addio Mamma mia Che si sono magnati Fine primo tempo Siamo in vantaggio Dai ma Cerchiamo di mantenerlo Però Altre tre punti ottimi Dai 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 McCartan Mette interessante Joyce Non ci voglio credere No no Madonna il miracolo No Via Ok Guarda Bowerman Ma McCartan 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 Ma guarda quello che cacchio ha preso Bowerman Uff Dai è finita Oh E finisce Grande vittoria Mamma mia Cioè andiamo meglio in trasferta Che in casa Ok Ultima partita di oggi Agriton contro Hartpool Attenzione Campo innevato No Attenzione Madonna il miracolo Via 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 Bella palla McCartan McCartan Mamma mia Mamma Una coppia Una coppia mostruosa Lì davanti McCartan Era partito Inizio del campionato Che era una sega disumana Invece adesso Sta giocando Mamma mia Meravigliosamente 1-0 Agriton Bella palla Attenzione Bowerman Controllo splendido Bowerman Via bene Bowerman Mamma mia Mamma mia Come giocano Sulla neve Sul ghiaccio Giocano meravigliosamente 2-0 Agriton Bella ancora palla Per McCartan La controlla bene McCartan Fine primo tempo Mamma mia Primo tempo Perfetto McCartan Bella palla per Bowerman Controllo splendido Va via Bowerman Va via Bowerman La passa qui per McCartan No Bella palla Ancora per Bowerman Va via ancora Bowerman Va via Bowerman Se si allunga un po' troppo Invece no La mette dietro Bowerman 3-0 Mamma mia Un attacco favoloso Non ho più aggettivi Mamma mia 3-0 Agriton All day la mette Interessante in mezzo Attenzione Il portiere c'è Con un miracolo Prova via McCartan con Guizzo Prova McCartan Madonna che azione Ancora Bowerman Mamma mia La tripletta Ma calcio champagne qua Qua è il Real Madrid Non so Fenomeni Mamma mia Mamma mia Che cazzo di azione 4-0 A Grinton Partita chiusa Stracchiusa Mai aperta Praticamente E finisce Mamma mia Partita assurda Bowerman Strepitoso Attacco mostruoso Dunque ragazzi Siamo saliti In sesta posizione Quindi siamo In pieni playoff Anche se mancano Una marea di partite Però Abbiamo visto Come quando la nostra squadra Gioca bene Faffaville Detto questo Se il video vi è piaciuto Vi ricordo di lasciare Un mi piace Di condividerlo E di commentarlo E noi ci troviamo Nei prossimi gameplay Un saluto a tutti